C'è stata poca personalità, errori incredibili, quasi imbarazzanti nella fase di possesso, abbiamo subito un gol su un'ingenuità incredibile, su una rimessa laterale, e poi errori su errori, dopo nel secondo tempo c'è stata una reazione più nervosa, nel momento migliore abbiamo subito il gol e nelle occasioni che abbiamo avuto siamo stati poco concreti. Però bisogna giocare e non aver paura con la personalità come a tratti è stata nel secondo tempo, poi il Pescara ha sfruttato le giocate di questo insigne, è stato straordinario, soprattutto poi nel secondo gol, quindi bisogna adesso cancellare questa partita e pensare subito alla partita di martedì col Grosseto, mi aspetto una reazione dai ragazzi.